Far pagare di più i ricchi per garantire l'assistenza sanitaria anche ai poveri. E questa è la filosofia alla base della proposta del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per scardinare il sistema dei ticket sanitari ritenuto oggi un ostacolo per l'accesso alle cure delle categorie più deboli. Un piano questo appoggiato anche da gran parte dei governatori delle regioni convocati per domani pomeriggio al Ministero per avviare un confronto sui criteri di revisione della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Perché qualora venga abolito il ticket sanitario bisognerà trovare un modo per compensare i 3 miliardi di euro che si perderebbero sugli oltre 113 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale. Quali possono essere le misure compensative? E allo studio degli esperti. Tra queste c'è l'ipotesi di annullare le detrazioni del 19% per farmaci e spese mediche oltre una certa soglia di reddito oppure di individuare una franchigia in base al reddito superata la quale le prestazioni sarebbero a pagamento. Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di rivedere le soglie di esenzione che valgono 8 miliardi di euro spostandole verso le fasce più in difficoltà e l'avvio di una nuova revisione della spesa sanitaria affidando la responsabilità della manovra alle singole regioni.